è stata una buona prestazione attenta di fatta di determinazione e attenzione noi abbiamo concesso veramente poco tranne forse l'ultimo minuto due minuti alla fine un mezz'ora in pallo in aria è venuto il palo loro che è stata la loro migliore occasione per il resto dopo un primo tempo equilibrato noi abbiamo fatto un buon secondo tempo dovevamo portato tante volte la palla nella loro area in due o tre situazioni secondo me potevamo fare gol e non l'abbiamo fatto va bene così oggi abbiamo fatto una grande prestazione siamo venuti in un campo difficile contro una squadra che gioca un buon calcio lo sapevamo quindi è stata una partita difficile ma ci teniamo a questo punto e lavoriamo con positività in settimana ciao 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 ciao